Sono Gaia Umassi, studentessa del liceo artistico di Viterbo Francesco Orioli e oggi abbiamo deciso di allestire una mostra a tema contro la violenza sulle donne per sensibilizzare proprio il tema della violenza, di genere in generale che ancora oggi nel ventunesimo secolo ci portiamo avanti sempre e cerchiamo di sensibilizzare e far prendere coscienza attraverso le nostre opere le nostre collaborazioni proprio per la violenza e la gravità di questo tema appunto come qui il rispetto e il rispetto facciamo sempre vedere attraverso le nostre collaborazioni e attraverso tutta la scuola ripapre tutti gli indirizzi dell'artistico quanto sia importante prendere coscienza della violenza perché non viene fatta giustizia ancora e non è presa abbastanza sul serio